Uno di voi mi ha chiesto quante volte il datore di lavoro può rinnovare un co-co-co, cioè un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La legge non dice quante volte, dice semplicemente che il co-co-co si esaurisce non appena si esaurisce la prestazione per il quale esso è stato disposto, ragion per cui il datore di lavoro potrebbe sì stipulare un nuovo co-co-co anche con lo stesso soggetto, ma a condizione che si tratti di una nuova prestazione. Se si tratta della stessa prestazione sta eludendo le norme sull'assunzione obbligatoria, quindi fatevi valere amici, perché questa è la legge!